In questo video ti farò vedere come ho rimorchiato una ragazza della Svizzera su Tinder Hai zero o pochi match su Tinder e quasi nessuno ti risponde? Non è perché non sei bello o ricco, ma perché non sai come comunicare il tuo valore tramite il tuo profilo e non sai come essere creativo e originale nei messaggi Scopri come acchiarare l'algoritmo di Tinder per ottenere ragazze illimitate facilmente e comodamente dal divano di casa tua nel nuovo programma Match Infiniti per il misero prezzo di 49€ con garanzia soddisfatto o rimborsato Dopo il 4 novembre 2022 il prezzo aumenterà e tutti i bonus verranno eliminati Clicca sul link in descrizione per accedere Bene, partiamo dal primo screenshot dove analizziamo un attimo il profilo della ragazza e altrimenti che cazzo scrivi se non guardi per dire il profilo della ragazza se scrivi ehi ciao come va, sei bellissima, finisci esattamente dove sei ad oggi ovvero con nessuna ragazza quindi nel profilo scrive sono di Milano ma vivo, studio e lavoro a Lugano iscritta per noia che tu non crederci ovviamente ci sono ragazzi iscritte per noia ma se riesci a interessarle escono lo stesso con te non è che iscritta per noia così a cazzeggiare quindi vediamo un attimo le foto quindi qua abbiamo un selfie, un altro selfie con il cane qua un'altra foto e un selfie e andiamo direttamente dal primo messaggio e io le dico, vediamo se indovino mi sembri una cui piace vestire piuttosto elegante se da me a Lugano lavori in qualche negozio di vestiti o gioielli quindi dalle foto a me sembrava un po' elegante questa ragazza qua e ci ho abbinato la cosa di Lugano ho detto boh magari lavori in qualche negozio di vestiti o gioielli non importa se sbagli la supposizione è molto più interessante per la ragazza rispetto a ricevere ehi ciao come va sei bellissima a chi vuoi che risponda la ragazza secondo te risponde ai 100 messaggi che ha con scritto ciao 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 ehi ehi come va sei bellissima ora pure risponde a chi scrive un qualcosa di diverso ok quindi lei mi dice sbagliato dove hai vestito dove hai visto vestiti eleganti quindi non importa come ti ho detto se sbagli la supposizione perché tanto è più interessante rispetto a tutti quanti gli altri messaggi che riceve quindi io dico in generale come stile si vede che sei una che si tiene ben curata soprattutto la prima e la terza foto quindi poi si è andata anche a controllare qual era effettivamente la sua prima e terza foto e mi diceva bene la seconda sono pure struccata comunque no studio masso fisioterapia e lavoro in un ristorante la sera per pagarmi l'affitto non sono così fighettina come sembra quindi positivo qua mi scrive un messaggio che inizia ad essere anche un po' lunghino quindi non è per forza un papiro ma tanto come ho detto tante volte non è necessario che le ragazze si scrivino dei papiri per manifestarti il loro interesse ok diamo lo screenshot dopo e io le dico buona sapersi comunque il vestirsi elegante non penso sia da fighettina quindi lei vuole appunto che io non avessi l'impressione sbagliata di lei quindi non voleva che io le etichettassi come la fighettina quindi io le chiedo come mai hai scelto proprio l'ambito di masso fisioterapia quindi qua entro un po' nello specifico di quello che era quello che faceva nella vita quindi puoi due volte cambiare l'argomento invece delle volte ha senso approfondire l'argomento soprattutto se non sei un cazzo di quell'argomento chiedilo chiedi spiegazioni chiedi maggiori informazioni se è una sua scelta di vita evidentemente è una cosa che le interessa l'argomento di conversazione preferito di chiunque è parlare di se stessi di se stesso usalo non per parlare tu di te stesso ma per far parlare la ragazza di se stessa e infatti vedi poi dopo il messaggio particolarmente lungo e dice boh mi ispirava a fisioterapia lavorando in ospedali e vedi tanta sofferenza invece con masso fisioterapia puoi scegliere altri ambiti tipo squadre sportive o centri di benessere o anche ospedali perché non puoi specializzarti e bla 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 e se io vedo quindi vabbè qua mi scrive il papiro e poi dopo mi scrive te invece di cosa ti occupi quindi positivo che mi chiede indietro le cose andiamo a screenshot dopo io dico interessante scelta di vita io faccio consulenza formazione in vari ambiti insegno di robe strane che entriano e posso dirle insegno di uomini a rimorchiare la ragazza ok non è questo adesso il discorso quindi rimpacchetto la mia descrizione in un modo più relazionabile con lei quindi tu non devi farlo se sei statistica non farai il mio lavoro avrai un lavoro più normale quindi non devi rimpacchettarlo quindi dico tipo come rimuovere le paure comportamenti le persone aggiungere obiettivi e altre cose quindi non posso dire insegno gli uomini a rimorchiare le miei dice ah oddio quindi analizzi i problemi mentali della gente è veramente figo e qui si fa la sua deduzione che va bene così tanto perché non posso spiegarglielo nel dettaglio a meno che poi non si va in direzione relazione seria allora lì in quel caso va per forza detto però ripeto tanto non è il caso di presente nessuno sta guardando questo video e io le dico in parte sì ma è molto più lunga da spiegare e qua vado inizio già a parlare dell'appuntamento quindi come vedi non è che serve chissà quanto per arrivare all'appuntamento adesso ti faccio vedere il resto della chat e quanto fino al numero di telefono poi la parte di whatsapp non è oggetto di questo video essendo un video gratuito quindi è importantissimo parlare prima dell'appuntamento e poi dopo chiedere il numero questa cosa incrementa un sacco le possibilità di arrivare all'appuntamento rispetto a chiederle soltanto il numero e poi chissà quando parlare dell'appuntamento quindi come vedi basta creare interesse un po' di messaggi per creare un po' di fiducia dopo un po' di segni di interesse puoi tranquillamente invitare per l'appuntamento chiedere se hai metodo e sai come si fa e sai come si crea interesse come si crea fiducia quali sono i segni di interesse e poi come si fa un invito specifico per l'appuntamento quindi lei mi dice drink tutta la vita e tu quindi sempre positivo quando chiedono indietro io dico io drink liquori qual è il tuo preferito quindi qua vado un po' più in uno specifico sull'argomento lei mi dice vabbè da donna ti devo dire drink il liquore fa tanto uomo sulla poltrona col sigaro io intendevo no intendevo qual è il tuo drink preferito lei mi dice ah pensavo che mi stessi chiedendo se preferisco drink o liquori oddio ce ne sono tanti dipende dalle occasioni penso il di Saronno il sour non so come si legge per una serata easy in disco gin o vodka lemon poi altri quando mi stufo di questi una ragazza ne sapeva molto di drink io dico di solito una serata easy a quanti drink arrivi quindi così mi faccio anche un'idea di quella che è l'apertura mentale della ragazza di quanto è festaiola di quanto invece magari può essere chiusa mentalmente quindi le mie c'è tre dai e andiamo a screenshot dopo e qua è un esimo papiro quindi c'è come vedi basta ti sai distinguere un minimo e poi le ragazze si interessano descrivono i papiri che ricordo che non sono per forza necessari quindi puoi arrivare al puntamento anche senza che la ragazza ti scriva i papiri lunghi tre chilometri quindi le mie dice dipende da quanto dura la serata però appunto se vai a toccare i tasti giusti la ragazza poi investe un sacco quindi le mie dice dipende da quanto dura la serata mi annoio facilmente a non fare nulla tutta la sera cioè stare fermi ore in un posto a parlare e bere dipende tanto dalla compagnia e con i miei amici è davvero una palla quindi conviene sempre cambiare posto o andare a fare qualcosa oppure alcolizzarsi non non che non ci si possa divertirsi da sobri quindi qua adesso non è per forza così però poteva anche essere questa un'allusione al sesso che ci si può divertire anche da sobri ok non è per forza così però chi lo sa cosa intendeva quindi ti aiuta mentalmente il pensare che la intendesse sul lato sessuale quindi andiamo avanti e io dico penso potrebbe essere dire attenti invitarti per un drink una sera ma al momento mi sa che è impossibile quindi qua era periodo lockdown restrizioni eccetera quindi questo è un chat del 2020 e ha fattoci anche la data 26 aprile 2020 quindi era periodo lockdown quindi le dico appunto ma al momento mi sa che è impossibile di solito quanto stai a Lugano di solito quanto stai a Lugano ogni quanto spesso vieni a Milano quindi per capire un attimo la sua situazione logistica per poi di conseguenza organizzare qualcosa quando poi si sarebbe potuto e le dice torno nel weekend le dico ottimo ci siamo in stata al lounge bar che c'è dietro il Duomo e le mi dice no sono stata la terrazza del Rinascente quindi qua non è per forza necessario iniziare a parlare anche del luogo dell'appuntamento però in certi casi ha senso di solito ne si parla quando si è già su Whatsapp e andiamo a screenshot dopo io dico la terrazza del Rinascente mi sa che riaprirà fra un bel po' magari sia da 4 maggio il lounge bar è aperto possiamo vederci una sera per bere svelati cocktail quindi qua periodi antichi di restrizioni e o se i bar non saranno ancora aperti li prepariamo insieme i cocktail quindi questo era un invito diciamo indiretto a casa però nel periodo appunto 2020 restrizioni varie era in realtà molto facile fare appuntamenti direttamente in casa perché appunto non c'erano altri modi nei periodi di restrizioni di fare appuntamenti se però creavi la giusta fiducia con la ragazza quindi per quello cioè se fosse tutto quanto aperto regolarmente non avrei mai fatto un invito a casa così presto una ragazza saluto via messaggio quindi lei mi dice non apro i miei locali dove li prepari i cocktail le dico a casa mia purché non mi salti addosso e non mi svaliggi l'appartento io sto vicino a Cadorna tu in che zona sei lei qua mi dice appunto la zona in cui sta e non dice niente riguardo al mio invito a casa quindi è una reazione neutrale quindi è più che altro importante dal vivo una reazione di questo tipo quando per esempio fai un invito per andare a casa e la ragazza si focalizza su altro per esempio molte volte mi capitano gli appuntenti faccio l'invito per andare a casa e la ragazza mi chiede dov'è il bagno oppure mi chiede magari in che zona sei quindi però non ti risponde il sì esplicito perché risponderti un sì esplicito mette poi troppa pressione troppa responsabilità sull'idea e quindi ti dà una risposta neutrale quindi non ti dice niente oppure comunque c'è ti risponde qualcosa mettendo praticamente già in conto che verrà a casa tua quindi in questo caso metto la zona in cui viveva dando già per scontato il fatto che verrà a casa mia quindi poi ovviamente bisogna lavorare anche in mania corretta all'appuntento quindi non è che adesso perché qua aveva risposto in mania neutrale all'invito a casa quindi neutrale vuol dire poi anche positiva come reazione e non è che poi verrà per forza a casa con me all'appuntento bisogna poi lavorare anche correttamente all'appuntento ma già questo è un segnale poi iper positivo quindi io dico a Instagram o a Whatsapp per venire in contatto al di fuori di Tinder quindi qua ho chiesto quindi poi c'è il suo numero di telefono qua l'ho chiesto il numero di telefono in un modo che di solito non uso quindi mettendo la scelta Instagram o Whatsapp perché appunto nel periodo di 2020 restrizioni varie siccome magari non c'era la certezza di quando potevi vedere una ragazza per avere restrizioni era importante il tenersi in contatto anche per il lungo termine e Instagram facilita molto di più il tenersi in contatto per il lungo termine anche senza scrivere anche senza scrivere alla ragazza perché ci sono le storie ci sono i post mentre se c'hai su Whatsapp o le scrivi ogni tre giorni oppure è molto difficile tenersi in contatto mentre su Instagram ci si può tenere in contatto in maniera indiretta quindi per questo l'ho chiesto l'ho messo questa doppia scelta di solito circostanze normali bisogna chiedere Whatsapp hai zero o pochi match su Tinder e quasi nessuno ti risponde non è perché non sei bello o ricco ma perché non sai come comunicare il tuo valore tramite il tuo profilo e non sai come essere creativo e originale nei messaggi scopri come acchierare l'algoritmo di Tinder per ottenere ragazze illimitate facilmente e comodamente dal divano di casa tua nel nuovo programma Match Infinity per il misero prezzo di 49€ con garanzia soddisfatto o rimborsato dopo il 4 novembre 2022 il prezzo aumenterà e tutti i bonus verranno eliminati clicca sul link in descrizione per accedere